benvenuti ragazzi in questo episodio del futuro alternativo del mondo episodio 20 di nuovo cifra tonda e quale miglior momento per raggiungerlo se non il giorno di natale tanti auguri cari iscritti buon natale come ve la state passando spero bene per chi sta vedendo il video oggi spero che abbiate fatto un buon pranzo comunque che stiate ancora mangiando perché natale è tradizione rinfilzarsi di qualunque cibo presente in tavola anche se non vi piace voi assaggiarli tutto che tanto è buono se state vedendo questo video post pranzo sono felici che abbiate mangiato magari prima di vedere questo video chiudetevelo fatevi una partita a carte con amici e parenti e poi tornate a vedervelo tanto il video non scappa e parenti poi tornano a casa se lo state vedendo giorno 15 febbraio 2025 spero che il mondo sia ancora vivo bene dopo questa premessa natalizia che io in realtà sto registrando un po prima perché poi a natale ovviamente non posso registrare per gli stessi motivi per cui non ci siete voi iniziamo con la narrazione odierna che coprirà due mesi di arco narrativo circa iniziamo infatti il 23 ottobre perché dopo un mese di estrema resistenza il consiglio rivoluzionario della catalogna viene purtroppo rovesciato da francia e spagna quindi il piccolo stato che non aveva granché di supporto collassa in tempo zero poi geograficamente isolati infatti i ribelli non sono riusciti a ricevere rifornimenti ma involontariamente hanno ritardato lo sbarco spagnolo in marocco numeriosi importanti leader della rivolta verranno giustiziati o incarcerati sotto ordine ovviamente del governo spagnoli altri scappano in italia l'unico paese nel quale fuggire in una situazione così critica è l'ideale l'italia per non avere problemi fingerà di non aver mai accettato la loro residenza ma spostiamoci ora nel fronte polacco dove la situazione è tutt'altro che semplice in queste settimane infatti la russia compierà qualche piccola conquista verso la svevia infatti andiamo subito a segnare qua sotto sta la svevia queste queste province qua e soprattutto avanzerà verso la pomerania che sarebbe un'altra zona più sopra ovvero questa ma questa avanzata così lenta vi fa capire come in realtà la russia non sia uno stato molto potente soprattutto soprattutto quando si tratta di combattere con un nemico quasi all'altezza perché comunque la russia dovrebbe essere più forte della germania e non sia un mostro infermabile queste piccole conquiste in così tanto tempo per i nostri ritmi fanno capire appunto questa debolezza infatti il tempo continua a passare la germania però nonostante il supporto dell'esercito polacco è costretta a passare alle riserve dovendo comunque fronteggiare una logorante guerra contro la francia che ricordiamo è ancora impegnata nella terribile e sanguinosa battaglia di francoforte il 2 novembre è una data storica per questa guerra avviene la grande rivolta di varsavia o rivoluzione polacca quasi un quarto della città infatti insorge contro la russia l'esercito con un po di fatica però reprime ogni altra possibile rivoluzione in qualsiasi altra parte dell'ex polonia due giorni dopo però kalimov è costretto un attimino a riprendersi delle truppe da fronti importanti e quindi la germania riesce a riconquistare i territori di pomerania e slesia i territori che peraltro aveva poc'anzi perso in un disperato contrattacco ecco quindi ri andiamo a dare tutti i territori alla germania che li riacquisirà come appena detto e la situazione adesso è questa con addirittura una polonia in rivolta a varsavia la situazione ovviamente è critica come avete visto quindi serve una misura forte la misura forte che kalimov alla fine decide di prendere il giorno successivo il 5 novembre dopo che la germania si era messa in posizione difensiva dopo aver ripreso i territori persi kalimov istituisce un governo fantoccio a varsavia che verrà poi espanso a tutti i territori polacchi o quasi ecco diciamo i territori che va ad includere li tracciamo prima da qua perché escluderanno ovviamente tutta la zona critica del di kaliningrad perché ovviamente non è una zona che i russi avrebbero voluto lasciar perdere quindi tutti i territori di confine vengono usati per creare questo questo vassallo questo cuscinetto ho atto a non ad evitare appunto la creazione di eventuali danni e di altre ripartenze da parte della germania si sembra più un uomo che sta facendo palestra però tralasciate la forma un po massacrata è normale che sia così forse dimenticato a dargli un territorio che invece ho dato alla germania si quindi mi pare di sì questo ora una forma leggermente migliore no in realtà no è giusto così adesso però c'è un dubbio la rivoluzione dovrà continuare o no l'ex esercito polacco dovrà attaccare ancora per difendere la polonia appena nata o comunque attacco comunque rifiutarsi di attaccare considerando che sarebbe come combattere una guerra fratricida bene questa mossa ovviamente fatta per organizzare nuovamente l'esercito russo diventa ovviamente un problema per la germania perché la germania non potrà più fare altro per ora infatti il fronte cesserà di mietere vittime però purtroppo è solo momentaneamente della serie ribelli sconfitti ce ne sono un'altra fazione che non abbiamo considerato quella della carelia il 10 novembre infatti l'esercito russo riesce a sconfiggere i ribelli compresi all'interno della finlandia incapaci di fare nulla e avendo fallito di crearsi un esercito i ribelli si arrenderanno quindi il 12 novembre tuttavia alcune zone di ribelli rimaste continueranno a combattere contro lo stato non con provincia come vedete sulla mappa che infatti ora spariranno dalla mappa ma con attentati furti un po come è successo nella repubblica di weimar con i ribelli socialisti ecco un po di rendere l'ambiente un po più teso ecco ma sempre parlando di russia spostandoci un pochettino più a sud est abbiamo la situazione un po complicata in tatarstan infatti i democratici che sono appunto anche supportati dalla popolazione che ovviamente vede nel nuovo governo accelerazionista tutte le crepe possibili emerse specie in questa terza guerra mondiale inizia a ambientarsi e a conquistare nuovi territori a svantaggio dell'alleato russo infatti la città di ivesk viene presa e anche l'importantissima città di orenburg che collega i punti chiave dei ribelli i russi che temono che il tatarstan possa cadere in mani repubblicane magari entrare nell'idc invia un contingente verso il piccolo stato creatosi dopo la rivoluzione il 18 novembre infatti le truppe arrivano ai confini e lo invadono brutalmente però qui succede una cosa un po strana perché i territori che vado a cambiare adesso sono uno che è questo due questo e tre questo rifacciamolo tre rifacciamolo ancora tre perché ve lo sto sottolineando così bene il territorio verde qua verde scuro è del tatarstan accelerazionista il che è una cosa curiosa perché lo ha fatto senza alcun motivo in realtà c'è non è più una guerra di città o di governo è adesso una vera e propria invasione ma ci torneremo di sicuro in seguito infatti torniamo fuori dall'europa fuori dal dall'eurasia diciamo dalla zona un po più qui e andiamo in medio oriente quindi qua ragazzi vi ricordate cosa stava succedendo guerra anfibia tra egitto israele tanto caos al confine bene adesso ci sarà un momento cruciale della guerra infatti tra il 19 e il 20 novembre l'egitto effettua un enorme attacco anfibio contro israele più pesci più precisamente contro la cittadina di beirut capitale del libano regione autonoma di israele che è stata annessa qualche episodio fa questa operazione verrà chiamata dagli egiziani operazione mischila ovvero ghigliottina le truppe anfibie partono da qua sotto arrivano 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 e arrivano direttamente a beirut infatti l'egitto se riuscirà a fare questo attacco tenterà e riuscirebbe infatti a far avvalorare i veribili veicoli anfibi inutilizzabili ovviamente nel deserto essendo anfibi israele che non aspettava un attacco del genere per lo più anfibio e per lo più così potente riesce clamorosamente a perdere il controllo di beirut con un attacco così era anche impossibile il contrario in realtà le truppe israeliane che erano impegnate nella difesa del paese vengono supportate però dai riservisti che vengono subito reclutati e inviati a respingere fuori dal paese gli egiziani invasori quindi anche l'egitto adesso è passato alle riserve la situazione è più critica del previsto ora però lasciamo un attimino qui la situazione e spostiamoci in birmania dove la situazione è ancora più tesa infatti anche i socialisti il primo stato del patto di shanghai è entrato in guerra ma è un caso a parte perché per ora è l'unico e lo stato socialista infatti che era costretto entrare in guerra dal gigante cinese non è riuscito a fare del suo meglio tuttavia la cina per circa un mese continuerà finalmente ad inviare risorse e armi al suo alleato con lo scopo di rafforzare la birmania e indebolire le altre due che sono peraltro molto più difficili da rifornire per un motivo molto semplice che adesso vi spiegherò beh direi che il motivo è presto detto ovvero che la birmania accelerazionista ha l'alleato più vicino nell'arabbia saudita e la russia dista ben troppo specie perché la russia non ha il controllo dello stretto dei tardanelli e quindi deve diciamo usufruire del mar baltico qua sopra no del mar baltico vabbè avete capito del mare del nord scusatemi mi sono momentaneamente confuso quindi l'idc non ne parliamo perché l'idc in india nella zona indiana non è minimamente presente quindi avrete sicuramente capito come mai il come si chiama il la birmania socialista è la birmania più forte realtà delle tre se non altro la più strategica infatti il 24 novembre il giorno prima del mio compleanno lol non so perché l'ho detto ma mi andava di dirlo la birmania socialista lancia un enorme offensiva contro l'ormai stanca repubblica birmana riuscendo se essendo in guerra con entrambe le birmanie ad accerchiarle possiamo dire e a tagliarle letteralmente lontane da ogni confine adesso sì che le due birmanie sono messe male veramente male infatti i socialisti entrano anche a più la capitale annettendo la birmania repubblicana definitivamente la situazione è quindi questa con ora solo due birmani rimaste in gioco ora una ha consumato tutte le riserve per attaccare il la birma questa birmania ha consumato tutte le riserve per attaccare quella repubblicana questa all'estremo supporto della cina sembra una cosa fatta però ancora non è finita qui tornando però in europa perché so che vi era decisamente mancata in questo episodio la situazione è la seguente sono passati ormai due mesi dall'invasione dell'albania dove la serbia sto continuando a mandare ondate di soldati contro le difese albanesi i serbi sono avanzati tanto in macedonia anzi hanno addirittura fatto una cosa assurda hanno accerchiato scoipe perfetto quindi questa è la situazione molto critica ma ovviamente questa città macedone viene accerchiata e bombardata per settimane il primo dicembre il governo macedone sarà costretto letteralmente costretto ad accettare la resa e a dichiararsi annesso dal governo serbo la serbia quindi annesso l'intera macedonia come parte del suo territorio e l'albania che non era d'accordo a questa mossa critica questa invasione ovviamente per rallentare le tensioni questo era il minimo no esatto proprio ora le tensioni sono tutto fuorché calme infatti serbia con l'aiuto di montenegro e grecia attaccano simultaneamente l'albania per far sì che se anche uno solo degli attacchi dovesse fallire gli altri due non lascerebbero comunque scampo allo stato ormai messo male dell'albania e infatti anche questa volta purtroppo gli accelerazionisti hanno ragione il montenegro riesce a conquistare dei territori la sela l'albania infatti come preventivato resiste specie a tirana ma la situazione si complica nel momento in cui la serbia riesce a prendere un territorio che era stato albanese e la grecia riesce a recuperare parte dei territori che aveva perso ora sì che è critica per l'albania che si rintana in difesa a soli cinque giorni però dal coinvolgimento contro l'albania la grecia ha dovuto per fare quest'attacco rinunciare ad alcune truppe sul fronte turco approfittando della situazione decisamente tesa la turchia esce dalle posizioni difensive di alessandropoli e avanza in un'altra città la città di carvala facendo esattamente la stessa cosa quindi facciamo proprio a mo' di fronte militare ci siamo difesa ad alessandropoli la grecia non ha come difendere e attacco lampo subito via attacco lampo fine difendere la nuova città acquisita ed evitare che i greci possano sfondare quindi linea difensiva fatta e migliorata nei momenti di debolezza la turchia vince sempre per ora e allo stesso modo tra il 13 e il 15 dicembre questi territori divenduti ormai insostenibili e perennemente bombardati vengono riannessi la turchia ha riguadagnato nettamente una posizione di vantaggio contro la grecia e si prepara probabilmente a sferrare un colpo decisivo dovuto anche al fatto che la macchina la macchina aspettate la macchina militare greca è messa letteralmente a pezzi perché le tecniche turche la marina è stata gravemente danneggiata e alcune navi sono state addirittura catturate dal nemico e le nazioni con la percentuale di morte più alta dal numero iniziale in quanto soldati e le riserve sono già in crisi però se per qualcuno le cose vanno bene per un altro accelerazionista le cose devono andare male intanto mi sono reso conto che ho lasciato un territorio vuoto siccome l'ultima volta che ho lasciato un territorio vuoto vi siete fatti mille paranoie su cosa sarebbe successo in quel territorio lo vado a riempire subito quindi in spagna le cose sono difficili perché si la spagna riesce a cancellare il governo portoghese riesce a cancellare riesce a cancellare no non ci sto riuscendo sarà forse perché il portogallo a differenza della catalogna ha un alleato a uno qua a proposito ci dovrebbe essere il portogallo ma al momento non c'è quindi queste isole resteranno così per un po pazienza il portogallo ha cinque blocchi di mare di age ma hanno un oceano atlantico di differenza quello del nord per essere precisi ha il supporto eterno dei gusa degli usa non so mai come chiamarli in italiano cioè in realtà sarebbero tipo i mega stati uniti d'america ecco diciamo che grazie a questo supporto di armi e rifornimenti il portogallo riesce a resistere ma a questo punto la spagna è stufa di aspettare e allo stesso modo l'algeria che rischia di crollare senza una nuova distrazione contro il marocco così il 19 dicembre alle 5 di mattina la spagna anche con soldati francesi ed algerina effetto all'operazione toro del deserto sbarcando a tetuan a nord del marocco segneremo questo contingente con la spagna per comodità qui a partecipare allo sbarco sono più di 450 mila soldati in un colpo solo immaginatevi 4 ovviamente non arrivano nello stesso istante se ve lo steste chiedendo arrivano leggermente scaglionati ma 450 mila soldati di cui 200 mila anzi 250 mila spagnoli 200 mila francesi e siamo a 450 più gli algerini 50 mila quindi 500 mila ho sbagliato pure i conti 500 mila truppe contro il marocco che al momento sembra in estrema difficoltà ma aggiungiamo ora al momento più bello della terza guerra mondiale siamo arrivati infatti a ieri e l'altro ieri anzi a ieri e oggi del 2038 che succede natale la sua vigilia vi ricorda qualcosa per fatto sì vi ricorda sicuramente qualcosa vi ricorda sicuramente un miracolo che è successo questo sì ragazzi questo è davvero il miracolo di natale se aspettavate questo momento sono lieto di dirvi che in tutta europa in tutta europa i combattimenti si fermeranno i soldati usciranno dalle trincee e festeggeranno il giorno di natale che credo sia ancora oggi il momento dei momenti più belli se non il più bello dell'anno per tutti nella prima guerra mondiale nel fronte francese e tedesco ma anche tedesco e russo i soldati uscirono dalle trincee disarmati con le mani in alto i soldati nemici potevano comodamente sbaragliarli però in fondo non lo fecero videro quei soldati e si fidarono di loro uscì un soldato nemico dall'altra trincea e corse verso il primo uomo i due uomini si corsero incontro quando giunsero a più di 20 centimetri poco più di 20 centimetri di distanza si abbracciarono da lì i due eserciti buttarono a terra le armi e si abbracciarono fra loro si racconta che quel giorno giocarono tutti a pallone si scambiarono fotografie dei loro cari le fecero vedere appunto i loro nemici mangiarono insieme del cioccolato risorsa preziosissima per quegli uomini anche per istituire un po di morale poi purtroppo finì e tornarono a combattere ma quella tregua dimostrò che l'uomo è più forte della guerra che l'uomo è più forte delle armi che controlla che le armi sono tenute dall'uomo e l'uomo non è tenuto dalle armi quindi anche in questa timeline succede in zone ovviamente non europee come i birmani e israeli se ne fregheranno altramente ma in europa si fermeranno tutti i soldati serbi albanesi non avranno proprio una gran voglia di fare amicizia diciamo che solo qualche coraggioso si limiterà si limiterà a cambiarsi un abbraccio un gesto fraterno gli altri preferiranno godere e pregare il loro dio o i loro cari di essere sopravvissuti qualche giorno in più qui in questo fronte c'è un po di tensione dovuta alle loro divergenze ed ideali soprattutto balcanici in grecia in turchia l'odio è immenso ma la pace in qualche modo si riesce a trovare si trova un po qualche punto di incontro e si prova a godere di questa giornata in russia la situazione per quanto critica i soldati sono comunque soprattutto giovani e quindi non sono sanguinosi generali delle forze armate quelli ovviamente tranquilli che se ne stanno al cremlino a dare ordini quindi i soldati russi e i giovani soldati tedeschi sono al settimo cielo per questo accordo penseranno a trascorrere questi due giorni a giocare a pallone insieme e cercare di vivere al meglio questa giornata augurandosi tutti in cuor loro che non sarà l'ultima e che un giorno la pace tornerà a risplendere i soldati finlandesi e quelli russi un po stessa cosa in darimarca non lo so che fanno in svezia sicuramente pensano a mangiarsi le polpette dell'ikea che sono tanto buone tra francia e germania però c'è la situazione più comoda di tutte franco forte teatro di una battaglia molto aspre e cruenta viene momentaneamente magicamente fermata viene lasciata una sorta di confine di blocco per segnare le posizioni un po come a calcio quando c'è il fuorigioco e le posizioni vengono totalmente smantellate con l'obbligo però di tenere mille soldati a testa nel nella città per evitare un riprendersi delle ostilità fatale perché se tutti se ne vanno a festeggiare il rischio di un tradimento comunque resta quindi lasciando mille soldati a franco forte e poche centinaia nei confini poche decine di migliaia nei confini contro la francia i soldati francesi e tedeschi festeggiano questo giorno e spero proprio lo farete anche voi perché l'episodio di oggi finisce qui ragazzi dopo 22 minuti vi saluto vi auguro ancora una buona giornata spero davvero che questo video vi sia piaciuto devo dire che questa parte finale che ho improvvisato sul momento mi è piaciuta molto credo che anche il mio natale sarà bello quindi io lo devo ancora vivere voi lo state vivendo oggi il commento non può che essere la parola natale anzi vi dirò di più non commentatemi solo con natale commentatemi anche che per cos'è il natale per voi cosa vi piace del natale vi giuro che leggerò ogni commento quando avrò il tempo ovviamente li leggerò ditemi con tante parole o con poche parole come volete che cos'è per voi il natale se è per voi un momento di stare con parenti stare con voi stessi mangiare giocare a carte a tombola studiare vedere la fidanzata una vacanza voglio sapere davvero come state passando credo di non avere nient'altro da dirvi grazie grazie soprattutto a pricks per aver fatto subito gli screen di questo episodio avermi permesso la registrazione e a dark girashi che ieri sera che per me sarebbe il 21 di dicembre ha fatto nottata per scrivere questo episodio ha finito a mezzanotte e 20 di scrivere piccolo piccolo segreto piccolo spoiler quindi ringrazio questi ragazzi perché hanno davvero il cuore d'oro grazie sempre per quello che fate per me e grazie a tutti perché senza di voi non sarei qui in questo momento queste cose ve le dico ora perché non volevo interrompere la narrazione perché probabilmente l'avrei interrotto in un momento sbagliato vi auguro ancora buon natale a voi e alle vostre famiglie e noi ci vediamo in un prossimo video